Mi ha sorpreso la forza di recupero del titolo perché ha fatto un meno 50 dai massi e un successivo rialzo del 50 dai minimi, oggettivamente difficile da prendere, però allo stato attuale il rialzo è del 40% con volumi anche importanti nelle fasi positive e sicuramente sconta probabilmente il rallentamento dei pagamenti nei prossimi sei mesi, ma è una società da tenere d'occhio perché è comunque una fra le più importanti nel mercato e di conseguenza ai prezzi attuali ci sono molte case che sottolineano il fatto che dal punto di vista fondamentale sia sottovalutata. Dal punto di vista tecnico è da sottolineare che non si riesce a fare un'analisi perfetta perché è un titolo abbastanza giovane, però la forza relativa negli ultimi mesi è sempre stata molto positiva rispetto allo stock 600, sintomo che tutto quello che riguarda il mondo dei pagamenti digitali è un mondo interessante. Se l'andiamo a vedere rispetto a titoli come in America Visa, American Express, anche se i business sono potenzialmente leggermente diversi, è molto interessante per quella che è la sua nicchia e competenza di mercato sul territorio. E' un titolo da tenere d'occhio, difficile riuscire allo stato attuale a capire un punto di regresso significativo perché è anche un gap up che potenzialmente potrebbe andare a chiudere, io su questo titolo sono potenzialmente acquirente sulla debolezza, dovesse tornare in area 10, 10,50 euro.